Lunedì 19 febbraio, San Corrado con falonieri e il cinquantesimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 315 al termine. Il sole sorge alle 7 e 7 minuti e tramonta alle 17 e 46. La luna si leva alle 9 e un minuto e tramonta alle 21 e 31. Muore lo scultore veneziano Antonio D'Alzotto, il cui nome è legato soprattutto al monumento di Tiziano a Pieve di Cadore e a quello di Carlo Goldoni in campo San Bartolomeo a Venezia. Le previsioni per domani. Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti. Precipitazioni assenti. Temperature in calo di notte e senza variazioni di rilievo durante il corso della giornata. Grazie a tutti.